Amici sportivi di Mediagol, bentrovati con il nostro diario quotidiano. Questa giornata ha riservato una bella conferenza stampa, quella del giovane Zavi, il giocatore nuovo acquisto del Palermo che abbiamo visto in questi primi giorni di ritiro davvero essere un ottimo giocatore, bei tocchi di palla. Le sue parole sono state molto significative, lui proverà con i fatti a dimostrare il suo valore ai tifosi del Palermo. Nel pomeriggio e anche questa mattina un'assenza che ha lasciato pensierosi tutti noi perché Federico Balzeretti dopo lo scontro di gioco di ieri non si è allenato con i propri compagni, non è andato in campo e speriamo che si possa riprendere al più presto. Nel pomeriggio solita sessione atletica, solita tattica e poi la partitella, bellissime azioni e si è messo in mostra, si è messo in luce finalmente Gonzales che ha segnato uno strepitoso gol di rovesciata. Trovate tutti i video, tutti i contributi, le foto e quant'altro su medieval.it non perdete nulla, sempre con noi. Buona serata a tutti.